C'è un tratto della personalità del Vescovo Alberto che sta emergendo, come dire, prepotente in queste ore ed è il tratto della sua paternità. Una paternità che ha favorito la comunione ecclesiale e la fraternità all'interno del presbiterio, una paternità attenta alle persone là dove vivono la loro vita quotidiana, la loro vita di ogni giorno, una paternità fedele nonostante sia stata più volte messa alla prova dalle sue fragilità fisiche, una paternità sobria e discreta. È il tratto che più forte sta emergendo in queste ore di lui, veramente. e quindi con tanta gratitudine lo ricordiamo, con tanta gratitudine e con affetto direi filiale per l'accoglienza che mi ha riservato dal giorno in cui sono arrivato in questa diocesi, quindi tanta gratitudine.